tutto pronto per l'inizio del match dallo sport city center valido per la seconda giornata delle lega a2 di calcio 8 si affronteranno vecchie glorie contro toro viola aurelio va uno contro uno tenta di superarlo ma si ferma appoggia per il capitano che controlla e tira di sinistro aurelio il controllo stop di petto si ingira si accentra appoggia per colucci ancora aurelio se la porta sul sinistro il tiro grande risposta del portiere pazio che avanza sulla sul destro tenta il tiro murato da solo de cristofaro esce il portiere e c'è il gol gol da centrocampo di de cristofaro 1 a 0 toro viola allora reti sofia tenta il tiro di destro da lontano portava di sorprendere il portiere sofia direttamente per pezzin ancora sofia fa non girare palla bella l'apertura per colucci che mette in mezzo per castellani e c'è il gol 1 pari accettato de cristofaro 1 con andare all'1 contro 1 si accentra l'appoggia per placidi placidi tenta il tiro e c'è il gol dalla tre quarti un gran destro 2 a 1 troppo lunga aurelio controlla si accentra e rigira l'appoggia per castellani subito di prima per sofia davanti al portiere il tiro angolo brava risposta lani recupera palla pera direttamente per numero 7 alimonti ancora alimonti al tiro teso il portiere riesce a mettere in corno Arcaleni e l'arbitro manda tutti negli sfogliatoi il primo tempo finisce 2 a 1 per il toro viola recupera Tomei che appoggia subito dietro per il numero 18 sofia da solo davanti al portiere gol grande gol del numero 10 ed è 2 a 2 sofia allarga per il numero 18 che supera un uomo che al centro può andare al tiro di sinistro prende il palo Tomei al lancio lungo per castellani che può salire va al cross di sinistro non c'è nessuno recupera il numero 18 che si smarca una volta e va al gol 3 a 2 per le vecchie glorie passano in vantaggio il battuto da Alimonti ancora Sofia la riappoggia a Colucci che mette in mezzo tiro esciata gol il 4 a 2 con un grandissimo gol del numero 8 il capitano Stinziani al diciottesimo con Diego che appoggia per Alimonti che può andare al destro e fa il gol del 4 a 3 al ventesimo grandissima soluzione dalla distanza corto per Cimichella si gira Cimichella smarca un uomo cerca l'1-2 perde Cristofalo che tira di poco a lato brivido per il portiere attaccare l'arbitro fischia tre volte manda tutti negli spogliatoi vincono le vecchie glorie 4 a 3 grazie grazie